finchè non è a metà vita non teletrasporti fa le bombe poi da metà vita in poi teletrasporti io lo dici? ottimo però se qualcuno muore è praticamente finito io chiedi chi l'ha ammazzato? io voglio sapere questa curiosità Massimo l'aveva uccidì e può essere uno schiavo posso fare una domanda? chi va ucciso? aspetta un attimo lè quando non vi ha ancora teletrasportato nell'eco dove c'è sta l'eco dovete stare attenti agli schiavi che sponano vicino alla bolla nera perchè quelli entrano nel... dove ci siamo teletrasportati e poi rompono il cazzo quindi devo fare una fin... dovrei fare una sintesi pesante ma non cazzo 30 secondi per aprire un cazzo di menù sta perché c'è un credo in merda io chiedi te perché sono morti ma vai stai caldo no non sto caldo perché è incredibile morire uno schiavo mi dà fastidio mi dà fastidio fa tutto in questo modo per i cavalieri eh ma basta girare dai mattia se non lo sanno ci sono carlo 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 cavolo parola carlo per i palmi carlo carlo ferro carlo 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 cavaliere di perfetti detto questo è quello che buco mi ricordo orix a sinistra con te dove alla polna dove alla polna ma armi della luce non non è importante dicevo la tua mario non trovavo e con le nere nelle bolle ognuno nella propria che cano stai fatto vieni qua che carle ma tutti qua tutti qua continuate a sparare oggi sono morto io ero dentro non sei dentro vabbè dai va bene rianimiamo il danno è quello giusto ma perché il 90% del danno si fa con l'esplosione delle bolle l'importante è che facciamo esplodere quelle due cose mori adesso è poco importante se mori adesso non c'è nessun problema potremmo pure morire tutti tutti vabbè veramente adesso cioè se muoiono dopo è fatto esplodere cose abbastanza troppa insomma poi non so se te lo sai che ne fa una quinta di spera nostro di a canos non so cosa una quinta di spero per la mappa e frega il jolly la dovrebbe cercare in tracce dentro in quel mondo fa ancora più danni a oryx però deve essere un jolly bravo molto bravo deve essere veloce in giro per la mappa dai mattia vai carlo di adesso a frega deve dare una mano a noi due a canos si dopo a dirlo adesso a me già spawnato vai fre aiuta ok non sono riuscito a ucciderlo uccidete quello di Aleppo il mio il mio il mio il mio però dobbiamo uccidere subito al barcello per la posta dai 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 venite qua da me uccidetelo bisogna far fuori lui penso assolutamente dai venite qua dietro qua dietro dove ci stavoli ok sta per aprire la pancia sta per aprire la pancia eccolo ok bolle nere non è la propria bolla il problema è che io forse schiaccio ai 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 torno dentro ok rimaneteci ok adesso dovrebbe trasportarci ok adesso ci trasporta non morite chi non viene trasportato deve stare qua e sparare a quelli agli schiavi che entrano nella bolla uccidete i cavalieri che spawnano lì su l'importante è che non muoiono tanto è che non muoiono solo quello devono io sono sempre fine ovviamente ma è una cosa fissa o è una casualità che non lo so ma non lo vedo eccolo eccolo cerchiamo di togliere più vita possibile io e te lo so un po' ho messo a armi sta qui sta qui sta qui ho respawnato sinistra eccolo eccomi chiave da entra occhio sta carica sta carica stio di p***a ecco me vado su ecco ora torno quasi morto eh sono dentro anch'io eccola 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 è morta è morta è morta è morta ok adesso adesso si ricomincia dobbiamo vedere dove ti imposta uccidete gli schiavi ci aveva dato tessologia ci aveva dato non vorrei di niente ci aveva dato che la tessologia da canos entra da canos ok da ma non so se venire a essere resi conto ma a me mi è comparso tessologia sulla sinistra schermo rosso un attimo sono solo a parlare questo vai mattina non possiamo mai parlare che cominci a di ste cose c'è 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 udt ok o non risponde che hanno fatto e tutti io no vabbè non venite dentro stiamo dietro sempre proviamo che lo dobbiamo rianima prima del non ok da un po troppa vita per chi non viene teletrasportato cerchi di rianimare carl 9 a 10 secondi svakona ok ok c'è c'è vado io ci vado io vi è trasportatolo aviani cavalieri ok 3 secondi e 2 1 è io sono sempre a testino ok rianimare a lievito nel prossimo giro ci do dimingaglioni direttamente anche su orix sono più più salientro ok gli schiavi io sto qua fori è entratato trattura ero per occhio che entro lì mi fate albercare andate di cieco con l'eco no, insomma usate la mitriatrice sono qua dai ok, meno male ma cosa vi dai in giro? parate con le mitriatrici da che allo cio non so se per l'ultimo, che palle ok sono dentro a me è morto è morto è morto è l'ultimo, non capisco me da dossologia, me da dossologia a me alla fine non capisco perché a me è ognuno sui posti, ognuno sui posti ognuno sui posti da me, no per me fa la finta no io da me veramente si è da lessio vabbè niente mi do a prendere munizioni vieni no, levati alle visto vai saliale vai Cano vai Matteo Mattia eh Mattia ci sono ci sono ci sono fra aiuta Carl perché io ti sparo a mamma? Cano scusa se non sparo all'orco ma io non c'ho munizioni no vai tranquillo eh non è c'è l'orco ok ho finito il gol aiutate Carl aiutate Carl tutti al centro ce l'ho ok ma ha arrivato i munizioni ma quanto sopporto veloce a ucciderlo c'è il cavaliere non mori da adesso non mori da adesso mi raccomando ottiche ruba le bolle se non lo uccidiamo subito ok posto tutti pronti a sparare ok sta per aprire sta per aprire maffiarmi maffiarmi no pronti a sparare pronti a sparare posti vabbè ok bolle 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 ognuno nelle proprie cose via 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 dopo che oryx è morto ritorna al centro e bisogna sparare tutti al centro ok non lo sanno dicono che loro non lo sanno adesso glielo diciamo appena esplode tutto non dovete non è morto dovete venire al centro dove spavano la prima volta e continuare a sparare apre la parte ancora vita c'è ancora vita non so se ci facciamo dove morire io metto armi venite qua tutti al centro qua 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 sparate sparate tutto no 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 appena aprile deve aprire deve aprire non apre adesso delle trasporto non è morto ah no no ci fa fare un altro giro ci fa fare un altro giro forse andiamo in fulio forse andiamo in fulio non è detto non è detto cavallieri eh no lo so quanti turni da fa questo è cavallieri cavallieri mio è morto cazzo non colpi di cieca è chiaro un cazzo io ho un po' la volta di cattino dai speriamo io di primaria più quanto massimo occhio occhio non bisogna morire nessuna l'eco colpi di cieco ti prendo eh io sono ancora fuori anch'io arco no ecco ci sono eh ma lui è morto c'è quello del suono pieno io eh son dentro sono giù portalo giù lì 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 le chiave fuori le chiave fuori dai no no oh a me a me continuano a me a me continua da me non è proprio posto vabbè mi sta a fare che è la tua cosa come c'è questo fredde per sostituire no rianimato no è da carlo è da carlo non è che io posso chiedere una domanda senza che va agitare va bene non posso sali carlo ai carlo alexio e mattia gli ed è da una mano a noi e poi aiuta mattia no ma che mattia te amato via orco vado a dire del foro io siete gli occhi mi raccomando cosa ho sbagliato sta pecca io dove eccolo qua aiuta aiutatelo 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 non mi morite ora non togliere lo scudo al cavaliere però è la somata io sono lontano che ci posso fare ossidatelo più di cavaliere il cavaliere al lato di carla dal lato di kai da carla da carlo si è tirato il pugno non serve pronti a fare ma è meglio vabbè dai cazzo io lo metto dopo mori mori sparate 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 ok bolle 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 vedete quella cosa che dopo va al centro si è vero scusate se è un po' ripetitivo no vabbè ci sono entrata 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 venite al centro subito veloci vieni 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 ok adesso venite venite qua dove fauna venite qua se ne uccidiamo adesso ci in cula ci uccide io sono arrivata luce armi 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 uscite da armi eccolo vai 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 è buono Fossiti, 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 cane, fossiti, fossiti, è insatiabile, fossiti, 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 la cassa, ah ok, ma dov'è la cassa? Dov'è la cassa? Vaffanculo, 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 cane, 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 facciamo una foto, facciamo una foto, no, frammento, castigo, ah no, castigo, scusate? Oh, il torace, torace è automatico, castigo, a me castigo, a me castigo, a me castigo, a me castigo è pulso, a me l'automatico, acredi, no, no, l'automatico, dai facciamoci la foto io ho preso il riconoscimento guarda il suo viti di fusa guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda, guarda foto, 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 foto a me, Mario, a me mi ha dato il cannone mortabile